Noi abbiamo organizzato questa conferenza stampa, proprio diciamo così, unicamente di presentazione e abbiamo voluto evitare qualsiasi tipo di battesimo, diciamo, con padrini o madrine illustri e avremmo potuto farlo, anzi vi anticipo in esclusiva che giorno 15 avremo ospite qua da noi sia la Presidente Vandaferro che il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri. E' stata una nostra scelta concentrarci solo sul candidato e sul programma. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e lascio la parola al nostro candidato. Ringrazio Anna, ringrazio voi per essere presenti a questa manifestazione. Volevo aggiungere che oltre a Maurizio Gasparri e al candidato alla Presidenza Vandaferro probabilmente ci sarà anche la nostra coordinatrice regionale, l'On. Iole Santelli. perché vi abbiamo invitato a questo incontro con la stampa qui a Bovalino. Le motivazioni le ha già anticipate il mio addetto stampa ed è quello di spiegare quali sono le motivazioni che hanno spinto me a dare la mia disponibilità e ad accettare la candidatura che mi è stata proposta all'interno della lista di Forza Italia. Ovviamente le motivazioni sono molteplici, però quello che io voglio sottolineare è senz'altro una questione squisitamente politica e un'altra direi quasi personale per l'affetto che mi lega alla candidata al Presidente Vandaferro con la quale abbiamo anche condiviso delle battaglie già fin dai tempi dell'Università. Le motivazioni politiche sono molto semplici. Io ho sempre creduto e credo tuttora che la Calabria abbia le risorse e la forza per venire fuori da questa situazione d'impasse, da questa situazione che oramai da diversi anni ha costretto e costringe i nostri concittadini, i nostri amici calabresi, il popolo calabrese, ad una rincorsa affannosa, rincorsa che non sembra abbia mai fine. Io ho dato la mia disponibilità alla candidatura di Forza Italia perché ritengo che Forza Italia, così come strutturata, così come si propone ai cittadini, possa essere senza altro l'unico partito che è capace di rilanciare la nostra terra. Ovviamente la garanzia principale è la presenza di Vandaferro alla Presidenza, una donna determinata, una donna che ha fatto bene già nella provincia di Catanzaro dove è stata amministratrice ed è una donna sulla quale puntare che rappresenta senz'altro una novità nel panorama regionale ma anche una certezza di discontinuità rispetto al vecchio modo di fare politica, sia a destra che a sinistra. Qualcuno addebita i disastri della Calabria all'ultimo quinquennio, io credo che invece bisogna partire da molto più lontano. La verità è che noi ci troviamo oggi con dei candidati dall'altra parte dello schieramento come Oliveiro che sono entrati a far parte del Consiglio regionale nel 1980 quando io e Vandaferro non eravamo ancora neppure all'università. Io a qualcuno ho detto immaginate che io e Vandaferro veniamo da voi, vi chiediamo i voti e voi date fiducia a noi, ci votate poi per 30 anni in Calabria non succede nulla. Ritorneremo nel 2044, vi sembrano, per dirvi guardate, noi siamo alla speranza della vostra terra, rivotateci perché vi cambieremo la Calabria. È ovvio che non saremmo credibili, allo stesso modo credo non siano credibili coloro i quali hanno governato questa terra per troppi, parecchi anni e che quindi forse un atto di generosità nei confronti dei calabresi avrebbero potuto farlo mettendosi da parte. Io sono alla mia prima esperienza di candidatura importante, sono stato, come sapete, amministratore comunale qui a Bovalino in qualità di assessore ai lavori pubblici e il mio impegno in politica è un impegno che parte da lontano dai tempi dell'università, anzi, ancora prima, ai tempi del liceo con le elezioni dei consigli di classe, dei consigli di istituto ero già impegnato sul fronte politico o la mia storia, tutti la conoscono perché mi sono sempre collocato a destra e mi definisco un liberale, un liberale di destra non ho mai avuto la possibilità, la voglia, l'opportunità di cimentarmi in una battaglia così entusiasmante come quella che mi vede impegnato sul fronte della candidatura alle elezioni regionali io ringrazio chi mi ha dato fiducia anche dandomi questa possibilità e li ringrazio perché intanto mi ha dato l'occasione di incontrare tanta gente in tutta la provincia di Reggio Calabria e di fare una grande esperienza incontrare la gente è importante credo che lo scollamento che c'è tra la politica e la gente comune è proprio quello di non fare politica nell'agorà come si faceva una volta forse troppi spot pubblicitari troppi discorsi buttati lì a vuoto quando invece credo che per capire quelli che sono i bisogni della gente credo sia necessario andare nelle piazze andare tra la gente, parlare con loro e capire quali sono veramente i problemi della gente mi ha emozionato l'incontro con una mia elettrice mi ha detto avvocato io le chiedo una sola cosa se lei avrà la fortuna di andare al consiglio regionale una cosa deve fare, anzi due deve essere umile e deve pensare per il popolo calabrese e questo devo dire per me è stata una grande emozione perché non mi ha chiesto, è una disoccupata non mi ha chiesto il posto di lavoro né per sé né per i suoi figli ma ha chiesto di avere riguardo per il popolo calabrese io spero di essere eletto il 23 credo di potercela fare ho il dovere di crederci come hanno il dovere di crederci i calabresi credo di potercela fare assieme a Bandaferro e di poter rappresentare quel cambiamento che in Calabria è assolutamente necessario indispensabile per rilanciare la nostra terra i programmi che la Ferro ha i programmi miei, personali sono dei programmi ambiziosi ma sono dei programmi che possono essere attuati con semplicità direi quasi perché ciò che nel mondo è normale in Calabria è impossibile in realtà non è così credo che passando un po' ai punti del programma una delle cose da cui ripartire sono le infrastrutture la prima cosa è togliere la Calabria dall'isolamento perché fino a quando noi non toglieremo la Calabria dall'isolamento puntando alle infrastrutture serie, importanti credo che non ci sarà sviluppo ma questo è legato al discorso della sanità ma è legato al discorso del turismo è legato anche al discorso dell'agricoltura noi produciamo, abbiamo delle grosse difficoltà a portare la merce fuori perché non ci sono infrastrutture noi abbiamo difficoltà a portare i turisti in Calabria perché non ci sono le infrastrutture non esistono più le lunghe vacanze di 30 giorni ormai la vacanza è un mordi e fuggi il fine settimana difficile immaginare che un turista da Milano possa venire a trascorrere un fine settimana se deve impiegare tre giorni per arrivare in Calabria soprattutto nella nostra fascia ionica e altri tre giorni per tornare a casa è impossibile se noi pensiamo che ultimamente mi pare la famigerata 106 della quale ormai sembra che non è possibile vedere questa conclusione dei lavori è stata classificata mi pare la strada più pericolosa d'Italia non è possibile che i calabresi debbano piangere i propri figli anche per la mancanza di attenzione da parte della politica verso una strada di grande comunicazione come la 106 se immaginiamo che l'unico aeroporto che potrebbe portare i turisti nella nostra provincia è quello di Reggio Calabria rischia la chiusura addirittura se immaginiamo che l'autostrada i lavori anzi ora mi sembra che ci sia stata una bella accelerazione però sono decenni oramai che si aspetta del completamento per non parlare poi della Bovalino Bagnara non ne parliamo comunque non solo della Bovalino Bagnara ma di tutte le strade le trasversali che devono congiungere la ionica e la terrenica dicevo non è possibile fare turismo se non si parte dalle infrastrutture non è possibile fare agricoltura perché il nostro prodotto deve avere anche la possibilità di essere esportato fuori e non è possibile quindi immaginare una Calabria diversa una Calabria proiettata nel Mediterraneo se ad esempio non si investe molto sulla portualità io su questo ne avevo fatto una battaglia già ai tempi in cui ero amministratore ho sempre creduto che fosse troppo la distanza tra il porto di Roccella che è ormai saturo e il porto di Reggio Calabria ho sempre ritenuto che era necessario che fosse necessario almeno in questo tratto di mare immaginare almeno un'altra darsa un altro porticciolo turistico non riesco a capire come ad esempio in Liguria non c'è paese dove non c'è un porto con 500 o 1000 posti barca sempre pieni la Calabria invece deve essere così trascurata da parte non solo dei politici calabresi ma anche da parte della politica nazionale e centrale la ferrovia altro tema scottante io non so adesso se è più opportuno eliminarla o potenziarla certo immaginare di fare la battaglia per avere un treno in più o in meno che ci porti a Milano a Torino credo che sia una battaglia di poco conto è soltanto una battaglia di facciata che non porta da nessuna parte questo tratto di ferrovia o si immagina un potenziamento una sorta di metropolitana di superficie dove sali a Bovalino e in 30 minuti sei alla mezza per prendere l'aereo oppure questo tratto di ferrovia non può avere futuro una volta la ferrovia era necessaria perché era importante dal punto di vista strategico-militare oggi le cose sono cambiate quindi immaginare una strada ferrata con qualcuno che sale a Bovalino e comunque impiega 13, 14, 15 ore per arrivare a Milano è assurdo non è più concepibile per cui quando io dico togliamo la Calabria dall'isolamento dico anche immaginiamo delle infrastrutture in linea con quelle che sono le esigenze con quelle che sono le necessità dei calabresi ma con quelle che sono anche i tempi relativi o legati alla mobilità cosa dire io vi ringrazio per essere qua ho detto poche cose ho parlato forse tanto ma ho detto poche cose ne avrei tantissime altre da dire dico semplicemente che conduco e condurrò questa battaglia con l'entusiasmo che ha contraddistinto il mio impegno il mio impegno nella politica il mio impegno nel sociale io ho il mio slogan nelle mie locandine e crediamoci ancora ed io lo dico perché io ci credo perché io credo che la Calabria possa fare e possa avere perché merita di avere molto di più io credo che i calabresi non siano quelli che vengono descritti quotidianamente dai media a livello nazionale io credo che i calabresi sono i tanti uomini e donne che lavorano quotidianamente che fanno sacrifici tanti uomini e donne che vanno all'estero e portano e tengono alto il nome della Calabria io credo che i calabresi siano i tanti imprenditori che quotidianamente hanno il coraggio di rischiare in questa nostra terra e hanno il coraggio di investire perché credono nelle risorse e nelle potenzialità dei calabresi la politica deve stare vicina a questa gente deve stare vicina agli imprenditori deve stare vicino ai giovani deve stare vicino agli ammalati la sanità in Calabria stiamo qui ancora a discutere dell'ospedale in più dell'ospedale in meno gli ospedali non possono essere dei presidi per giocarci qualche primariato o per qualche posto di lavoro gli ospedali devono essere dei luoghi dove la gente è sicura dove la gente trova dei servizi seri tra l'altro voi mi insegnate che la migrazione sanitaria costa e costa tanto per cui forse con dei poli di eccellenza forse anzi sicuramente abbatteremmo anche i costi dicevo un piccolo episodio io ho incontrato una madre che ha un figlio con dei problemi e mi chiedeva un intervento ma non un intervento una cortesia mi diceva tu aiutami come avvocato come candidato a risolvermi questo problema perché è un problema serio dell'ospedale di Locri ed è un problema che io affronterò non ho avuto modo purtroppo per i miei impegni elettorali di approfondire la questione dal punto di vista tecnico però non è pensabile che ad una madre si dia questa risposta sì tua figlia ha diritto però qua noi non lo facciamo allora se tua figlia ha diritto tu lo devi fare se non lo puoi fare perché la figlia di questa madre non ha diritto allora il diritto il dovere della politica è quello di intervenire per garantire e tutelare quel diritto io adesso non faccio nome perché non è il caso non è giusto però io ho promesso a questa madre al di là del mio risultato elettorale io come avvocato come uomo come cittadino che vive in questa terra io mi occuperò di questo e questo se veramente la normativa sanitaria regionale pregiudica questo diritto di un minore io mi batterò perché venga fatta una proposta di legge perché venga cambiata la normativa perché non può assolutamente essere negato un diritto ad un bambino il problema delle infrastrutture è chiaro che io non ho affrontato o comunque non ho parlato nello specifico del porto di Gioia Tauro della città metropolitana eccetera perché l'ho anticipato per parlare di tutto impiegheremmo delle ore però è ovvio però è ovvio che anche nella logica della città metropolitana la città di Reggio è obbligata a guardare alla provincia l'idea che ha già lanciato la Santelli del 30% delle risorse destinate alla città metropolitana da spendere nella ionica io credo che sia anche l'attenzione e la sensibilità di una donna che vive opera a Cosenza verso il nostro territorio questo sta a significare che Forza Italia ha un progetto complessivo di sviluppo di tutta la Calabria perché noi non andiamo a governare la Locride noi andremo a governare la Calabria è un progetto che deve necessariamente realizzarsi ed io ti riporto un attimo indietro tu hai detto la Darsena le idee sono belle ma vanno concretizzate hai ragione ma per concretizzarle bisogna fare sinergia e crederci io faccio un passo indietro per la Darsena caro Mimmo io solo per convincere l'amministrazione comunale di cui io facevo parte oggi il sindaco Zappavigna è candidato a sinistra per convincerli per convincerli che quello era un progetto sul quale bisognava puntare io ho impiegato solo due anni per avere una determina in modo tale da inviare i prelievi che erano stati fatti nell'acqua da inviarli per vedere per fare uno studio delle correnti due anni per far capire agli amministratori comunali di Bovalino che era un progetto possibile dopo due anni dopo di che io in un anno avevo trovato gli investitori che erano pronti ad investire avevo trovato la società che ha fatto il project financing era pronto il comune il comune ce l'ha è lì ha un project financing che era stato realizzato da quell'assessorato da me probabilmente purtroppo la gente non ci crede non ci hanno creduto prima e non ci hanno creduto dopo perché poi chi è arrivato dopo invece di dare seguito a quel progetto probabilmente ritengono hanno ritenuto che occuparsi dell'ordinaria amministrazione ma non a Bovalino come si fa generalmente è cosa più importante io credo che quello debba essere fatto però credo anche che un amministratorio o comunque uno che si propone per governare un territorio deve avere una visione un po' più ampia e deve saper guardare lontano perché chi governa e chi guida un popolo deve avere anche il coraggio di osare altrimenti non ha senso la città metropolitana io ho avuto modo anche di fare degli interventi al Reggio perché è naturale che tu poi ai tavoli che contano devi portare quelle che sono le aspettative e le esigenze del tuo territorio Reggio non guarda alla città metropolitana considerando come dire lo sviluppo dell'intera provincia ma il sogno di Reggio ed è legittimo che sia così non era la città metropolitana di Reggio ma era la città la metropolitana la città metropolitana dello stretto quindi pensava alla conurbazione con Messina accettano la città metropolitana probabilmente perché perché tecnicamente fare una città metropolitana che comprende Reggio e Messina non è possibile perché sono due città in due regioni diverse e quindi bisognerebbe superare tante difficoltà dal punto di vista tecnico-giuridico che non è facile superare però è legittimo che Reggio aspiri a diventare la città metropolitana dello stretto però è anche legittimo che noi che viviamo la provincia dobbiamo far capire che o un progetto è un progetto complessivo perché Reggio ha le sue risorse ma deve puntare anche a valorizzare e a farsi carico delle risorse della provincia o si cammina assieme o non si va da nessuna parte il concetto è questo il porto di Gioia Tauro io ricordo le battaglie di Umberto Perilli era presidente della provincia parlava di zona franca non se ne è parlato più cioè voglio dire qualcosa bisogna farlo però se noi immaginiamo il porto di Gioia Tauro che ce lo giochiamo non per far progredire la Calabria ma per andare a giocarci l'autorità portuale per andare a guidare l'autorità portuale o immaginiamo il porto di Gioia Tauro soltanto come occasione per qualche voto in più è chiaro che né Gioia Tauro né la provincia né Reggio e la Calabria avranno mai sviluppo Gioia Tauro deve al porto di Gioia Tauro bisogna puntare come bisogna puntare alle altre eccellenze e se non sono eccellenze bisogna farle diventare delle eccellenze ma ripeto in un progetto complessivo che deve guardare alla Calabria intera la Iole Santelli ha lanciato anche il discorso del polo archeologico della Locride ebbene io parlando con un collega che è stato anche lui collaboratore al consiglio regionale di un onorevole si discuteva della possibilità sul modello Siracusa creare una struttura che andasse che andasse poi a gestire le famose tragedie sul stile Siracusa sono partite all'Ocri all'Ocri purtroppo partono li fai un anno poi non li puoi fare più perché non ci sono i fondi perché sono progetti che durano un anno o due anni con i PON e poi finiscono se tu invece crei una struttura che annualmente viene finanziata dalla regione Calabria dai continuità ad un fatto culturale di grande e di notevole rilievo all'Ocri purtroppo non si è fatto perché probabilmente anche la gestione dei PON anche la gestione dei PON e dei fondi strutturali va modificata io ad esempio immagino un unico centro di spese non è immaginabile che i soldi che arrivano dall'Europa debbano essere gestiti dai vari assessori da avere assessorati come al solito a scopo elettorale a scopo politico oppure tu presenti un progetto ti danno 20 giorni di tempo tu presenti un progetto se non ce la fai sei fuori no i fondi vanno gestiti da un'unica autorità e vanno gestiti a sportello come la famosa 488 io che sono un imprenditore un imprenditore un imprenditore no dal primo gennaio allora il 2013 allora questi sono 2007 e 2013 allora dal primo gennaio 2007 o dal primo gennaio 2006 quello che è fino al 31 dicembre 2013 il bando deve essere aperto la regione deve stabilire quali sono le priorità dopodiché aprire un bando che è unico e lo fa a sportello io imprenditore devo avere il tempo di programmare una spesa e poi chiedere il finanziamento cioè non è pensabile che tu un progetto lo fai in 60 giorni se riesci a farlo lo fai altrimenti oppure tu fai un progetto è valido quest'anno approvato ma non finanziato perché non ci sono i soldi tu praticamente a parte il fatto che poi le commissioni vanno ad esaminare questi progetti dopo un anno un anno e mezzo due anni probabilmente tu hai dei soldi da investire quando loro ti dicono che il progetto è ammesso tu non ce l'hai più perché hai fatto altre cose quindi non può e voglio dire poi tu da imprenditore non puoi stare nell'incertezza non puoi stare nell'incertezza scopelliti o lo iero voglio dire non è che più o meno la stessa cosa e allora non è possibile gestire i fondi in questo modo i fondi vanno gestiti a sportello cioè io come regione Calabria faccio una programmazione di 5, 6, 7 anni e dico che i fondi vanno spenti cioè principalmente secondo me nelle infrastrutture dopodiché nel turismo nell'agricoltura con ma se li fai a sportello c'è la certezza di spenderle perché tu hai la possibilità al giovane imprenditore di elaborare un progetto di presentarlo se è valido me lo approvi non mi devi dare 30 giorni di tempo non è il tempo neppure di ragionare quindi cioè vuol dire ci sono dei meccanismi che vanno in qualche modo modificati se puntiamo allo sviluppo della Calabria se poi invece i fondi strutturali devono essere gestiti dai singoli assessori per fare favori o per favorire i grossi imprenditori che probabilmente vengono dal nord e vengono qua prendono i soldi e poi vanno via e allora è chiaro che chi fa questo non ha a cuore la Calabria se noi andiamo a considerare le condizioni in cui versa la Locride noi siamo una parte della provincia più povera nell'ambito della regione siamo Reggio Calabria la provincia è più povera la Locride è la parte della provincia ancora più povera e non c'è dubbio che quando io parlo di sviluppo complessivo lo intendo nel senso che bisogna avere e bisogna guardare alle priorità la Locride è una priorità a noi serve qualcuno che lotti per noi sì e allora e è in grado di fare questo certo che sono in grado ho la forza la voglia e l'entusiasmo e glielo dico ho la voglia sì 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 e glielo dico e glielo dico col cuore in mano ma sa perché glielo dico glielo dico perché ribadisco io credo io credo credo nelle capacità e nelle potenzialità della Locride vogliamo parlare della Locride e della Locride allora lei fa la giornalista se ne è occupata in questi anni di quelli che sono stati i progetti e di quelli che sono stati i risultati dell'Assemblea dei 42 Comuni quale risultato ha prodotto hanno prodotto l'Assemblea dei 42 Comuni negli ultimi anni nessuno adesso adesso qual è la adesso qual è la situazione in Calabria arriva il nuovo ministro e si fa il Consorzio dei Comuni dello Stilaro ma la ministro quando era sindaco di Monasterace va bene cosa ha fatto per i 42 comuni della Locride non ha fatto nulla perché probabilmente a qualcuno quell'associazione serviva per andare a Roma contrattare e contrattare nell'interesse esclusivo del Campanile io quando rifiuto il Campanile non lo rifiuto perché ritengo che quel paese ha già avuto no bisogna ragionare in termini complessivi per la Ionica non si può immaginare se io dico darsene a Bovalino non perché Bovalino lo ritengo superiore ad un altro comune io da amministratore di Bovalino ho lavorato in quella direzione però vogliamo immaginare una volta ma dico una volta uno sviluppo complessivo vogliamo immaginare che se Casignana va valorizzata per la villa di Casignana e Geraci per quello che c'è a Geraci lo che deve essere valorizzata per il Marasà e Roccella per il porto che c'è già cioè ogni territorio deve essere valorizzato per quello che può offrire per quello che ha ma se tu non punti alle infrastrutture per creare come dire una mobilità che ti consente poi di fruire di questi valori aggiunti che ogni paese può portare il discorso cade non funziona più allora i 42 comuni dovevano servire a questo dovevano dare impulso allo sviluppo della Ionica sono serviti invece a qualche sindaco o a qualche ex sindaco di uscire da sindaco e di entrare nella gestione dei rifiuti di uscire dalla gestione dei rifiuti e di entrare nella gestione del turismo di uscire dalla gestione di un turismo e di fare il presidente della comunità montana meno male che sono state abrogate uscire dalla comunità montana e tornare a fare il sindaco quando io dico a Mimmo dispiace probabilmente ma quando io dico lo ieri dal 1980 ha detto bene lui ha fatto tutto ha fatto il deputato l'assessore il sindaco il presidente della provincia il deputato basta diamo spazio ai giovani e non parlo di me diamo spazio a chi ancora ha la forza e la voglia di dire qualcosa per questa terra io questo dico ed è ovvio che io mi sento di potermi fare carico di quelli che sono i problemi della Ionica perché io a 52 anni non sono giovane ma conosco questa terra l'ho vissuta la vivo investo ci credo e credo che soltanto chi vive qua e chi si misura con i problemi di questa terra ha il diritto e il dovere di lottare per questa terra ma anche a quelle del mio schieramento io dico rinnovamento io ho accettato la candidatura e ho dato la mia disponibilità a bandaferro ma a bandaferro non perché a me non piace fare politica ma probabilmente se è candidato alla presidenza del consiglio della regione fosse stata un'altra persona probabilmente avrei detto di no probabilmente avrei detto di no perché io lo faccio perché credo la conosco credo in quello che ha fatto e credo che può fare perché il suo primo impegno è discontinuità e non è discontinuità soltanto rispetto rispetto al vecchio modo di fare politica ma rispetto agli uomini perché perché gli uomini che ci hanno governato in questi anni hanno dimostrato che hanno dimostrato che quel modo di fare politica non va bene non giova la Calabria non giova i calabresi quindi discontinuità in questo senso allora io ho sposato questo progetto perché intanto è un progetto di discontinuità perché è un progetto di rinnovamento perché si sta invitando la gente forse Italia credo l'abbia fatto anche nella formazione delle liste si sta invitando la gente che ha governato questo paese a farsi da parte perché è giusto che si faccia da parte perché lei ha ragione professore non è un problema di età perché può darsi pure cioè se fosse un problema di età io probabilmente a 52 anni sarei già fuori ma non è un problema di età nel senso che c'è gente che non avendo fatto parte di quel sistema non avendo lavorato in quegli schemi non avendo lavorato in quegli equilibri assurdi e balordi della politica degli ultimi 30 anni probabilmente ha la forza e la voglia di dire qualcosa di nuovo che loro non lo dicono non hanno la forza non lo vogliono dire perché fanno parte hanno fatto parte di un sistema incancranito e non se ne esce più punto ha detto bene Adelina Adelina che cosa ha detto ha detto un passaggio cioè che senso ha votare una persona che c'è stato e non ha fatto nulla allora io dico intanto il primo passo è andiamo a votare perché il cittadino che delega chi si occupa poi di politica e lo delega e gli chiede qualcosa prima di chiedere qualcosa deve impegnarsi a votarlo e credo che un governatore o un candidato che venga eletto a larga maggioranza sia più legittimato rispetto ad uno che diciamo in percentuale ha meno voti io credo che vada la gente vada stimolata a votare perché il partito delle persone che si astiene secondo me in una democrazia come dire è un segnale che la politica deve leggere e lo deve leggere nel senso che c'è una disattenzione della politica nei riguardi della gente e la gente ha perso anche la speranza nella politica e questo è un fatto gravissimo per cui voglio dire bisogna tornare alla speranza bisogna crederci ma prima ci deve credere il cittadino allora andiamo a votare il primo appello votiamo il rinnovamento votiamo persone facce nuove che in questi anni non hanno governato questa regione e che quantomeno non sono responsabili lo saranno stati magari o sono stati come elettori ma non certo come come governanti non è pensabile ancora che ci siano partiti dell'1,5% che pretendono di andare a governare una regione o un paese io sono convinto straconvinto del bipolarismo ma non da adesso da quando ho aderito ad alleanza nazionale perché quel passaggio e nel PDL perché quel passaggio e voi ricordate che io sono uno dei fondatori di uno dei circoli della libertà io ho fondato il circolo della libertà prima ancora della nascita del PDL perché credevo e credo tuttora che è inutile perdersi mille rivoli ci vogliono cioè noi non possiamo essere europei o americani quando ci conviene cioè non c'è le democrazie le democrazie europee le democrazie compiute sono tutte bipolari tutti solo in Italia esistono 25 partiti cioè io sono contento magari dal punto di vista elettorale non si avranno i consensi magari che si potevano avere con qualche liste in più ma io sono contento stracontento che Bandaferro sia sostenuto da tre e non da 25 liste perché significa che si sta creando un movimento che va verso la direzione non del partito unico del pensiero unico al quale non ci credo ma di un'area di un'area moderata liberale di centrodestra che secondo me deve essere votata perché ha qualcosa da dire in più rispetto a quello che oggi dice la sinistra ma che se governa male se governa male la gente ha il diritto dovere di non rivotarla ma questo mi pare mi pare è la dinamica delle democrazie è la dinamica delle democrazie dobbiamo abituarci anche a questo di un'area di un'area